man mano che vi addentrate nella caverna tutto l'ambiente si fa più scuro fino a quando non vi rendete conto che nell'oscurità più totale dal buio davanti a voi arriva un rumore crepitante potrebbero esserci dei nemici in agguato no ce l'ho guarda sta pro move allora uso ombra di un'invocazione per simulare un incantesimo di luce diurna in questo modo non solo illumino tutta la caverna ma se c'è qualcuno deve tiro salvezza se no rimane abbagliato stai usando un incantesimo di ombra per fare luce il tuo incantesimo crea un potente flash di luce accecante che illumina la caverna e davanti a voi adesso potete vedere che c'è un elementale del fuoco grande che si era acquattato nell'ombra e vi stava aspettando per colpirvi a sorpresa l'elementale di fuoco era nascosto nell'ombra ma tu devi sempre stare a lamentarti signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e alcuni di voi adesso stanno pensando che la scenetta che hanno appena visto non abbia alcun senso e altri invece stanno pensando che sia la cosa più razionale che si potesse fare e questa non è una mia ipotesi perché in realtà è ispirata a una vicenda realmente accaduta per chi è sul gruppo telegram del master kai lo dico sempre trovate il link in descrizione qualche mese fa c'è stato un commento di eleonora che chiedeva come dovesse comportarsi quando viene usato un incantesimo di ombra per simulare un incantesimo di luce sul piano delle ombre dove le ombre sono potenziate ma la luce ostacolata un sacco di roba tecnica diciamo ma oggi noi lo utilizzeremo come punto di partenza su un discorso che in realtà per quanto riguarda i giochi tradizionali è molto sentito cioè l'eterno dibattito tra raw e rai ora voi lo vedete come parte della serie sul d20 system non è qualcosa di limitato solo a pathfinder o dnd 3.x qualunque gioco tradizionale con un regolamento molto complesso si porta dietro dibattiti del genere diciamo che io l'ho voluto mettere qua per evitare che si confondesse con discorsi sul gioco di ruolo più indegenerale che faccio in altre serie del canale però per chi fosse del tutto scevro dalle meccaniche trad o magari avesse cominciato da poco cos'è il dibattito raw vs rai? partendo proprio dalle basi qualunque regolamento per giochi di ruolo tradizionali si basa sul principio che le regole che sono esposte nel manuale dovrebbero andare a creare la base per simulare il comportamento del mondo di gioco previsto della fiction prevista per quel gioco ora trattandosi ovviamente di un gioco e tra l'altro di un gioco di ruolo in cui viene creato un racconto collettivo ovviamente queste regole non sempre vanno a simulare un mondo di gioco che sia attinente al mondo reale in cui viviamo questo non è un fatto negativo anzi è una cosa voluta le regole devono simulare il tipo di storia il tipo di fiction di riferimento per il gioco dato che siamo a rubrica il d20 system prendiamo come esempio pathfinder o dnd in dnd e in pathfinder i personaggi non sono persone normali sono degli eroi che compiono imprese epic fantasy possono prendersi un'ascia in faccia e riceverne solamente un graffio possono passare tutta la notte a saltare da un tetto all'altro della città senza essere neanche affaticati e possono manipolare l'energia arcana nell'universo con la facilità con cui io accenderei un tostapane le regole della 3.x quindi sono pensate per permettere ai giocatori di far fare questo tipo di azioni ragionevolmente con i loro personaggi e oltre a quello sono anche pensate per essere interessanti di per se stesse non è il modulo non è un modulo 730 le regole sono fatte anche per essere divertenti da giocare e creare situazioni interessanti creare sfide tattiche per i giocatori più le regole aumentano e più le opzioni disponibili ai giocatori aumentano meglio rimarrà il gioco ma questo va a portarsi dietro un problema intrinseco cioè è difficile prevedere ogni possibile interazione tra tutte le regole con loro stesse e questo potrebbe portare a situazioni che per quanto a livello di regole siano perfettamente normate vadano a creare delle situazioni all'interno della storia che apparentemente non ha senso e non sembra verosimile rispetto alla fiction che dovrebbe andare a simulare avevamo già parlato qualche anno fa del concetto di dissonanza vi lascio il video linkato qui in alto se dovete andarlo a recuperare questo del dibattito tra rovers o rai ne è proprio un esempio pratico cioè ci troviamo di fronte a una situazione in cui le regole del gioco suggerirebbero che il comportamento corretto è uno ma la fiction di riferimento suggerirebbe l'esatto opposto o suggerirebbe qualcosa di diverso questa dicotomia è espressa normalmente usando proprio i termini row e rai che danno il titolo a questo video quando si parla di row rules as written si intende proprio l'aderenza alla meccanica alla regola specifica indipendentemente dal fatto se questa abbia senso o meno all'interno della fiction di gioco nell'esempio che abbiamo fatto abbiamo visto un incantesimo di ombra che viene usato per lanciare un effetto di luce se andiamo a leggere le regole di quell'incantesimo non c'è scritto nessuna parte che non può farlo dice semplicemente che quello è un incantesimo di quarto che può essere utilizzato per proxare un qualsiasi altro incantesimo di terzo e allo stesso modo se andiamo a vedere lo stat block di un elementare del fuoco non ha alcuna capacità che gli permetta di illuminare ne viene esplicitamente detto che possa fare luce e quindi da regole nulla gli impedisce di accucciarsi nelle ombre come qualsiasi altro personaggio l'altro lato della medaglia è rappresentato dal rai rule as intended cioè le regole come dovrebbero venire intese come dovrebbero venire interpretate le regole servono per simulare un determinato tipo di esperienza se l'utilizzo di quelle regole non porta a quel determinato tipo di esperienza allora la regola è mal scritta va ignorata va cambiata evidentemente non è non funziona come dovrebbe fare la descrizione dell'incantesimo ombra di un'invocazione dice chiaramente che quell'incantesimo manipola l'ombra per richiamare l'ombra di un altro incantesimo è abbastanza palese che non ci può essere l'ombra di una luce e allo stesso modo l'elementale di fuoco è una creatura composta solo ed esclusivamente da fuoco e per questo che è un elementale e il fuoco fa luce quindi è ovvio che l'elementale del fuoco dovrebbe illuminare la zona intorno a sé e quindi non ci potranno essere ombre dove è presente un elementale del fuoco per quanto un regolamento possa essere curato revisionato ben scritto tutto quello che volete più il regolamento aumenta di complessità anche proprio di dimensioni più regole comprende il gioco più diventa probabile diventa fondamentalmente inevitabile che alcune di queste regole andando a interagire tra di loro verifichino delle situazioni all'interno del gioco in cui palesemente c'è questa dicotomia le regole permetterebbero di fare qualcosa che non ha senso venire fatta o al contrario impedirebbero di fare qualcosa che in realtà sembra perfettamente razionale che i personaggi facciano consideratelo un problema inevitabile legato ai regolamenti tradizionali più che altro legato ai regolamenti estremamente complessi però a questo punto la domanda è chiarito il fatto che questo problema esiste noi come master quando ce lo troviamo davanti in gioco come dovremmo comportarci ovviamente infatti bisogna sempre dare la priorità al rei come ho detto chiaramente all'inizio le regole di un gioco sono pensate per simulare un determinato tipo di fiction che è quello di riferimento per la storia che sta venendo raccontata se le regole creano una situazione di gioco in cui questo standard di fiction non sta venendo mantenuto o le regole stanno venendo applicate in maniera sbagliata o più probabilmente le regole sono proprio mal scritte dopo tutto non stiamo giocando a un videogioco cartaceo e il master è lì apposta in quanto persona razionale per usare questa razionalità per garantire che le regole del gioco e le chiamate dei giocatori siano tutte coerenti con quello che è il tipo di storia che è stato concordato all'inizio volersi raccontare all'interno di questo tavolo all'interno di questo gioco dopo tutto parlando molto chiaramente se un giocatore va a fare una dichiarazione che per quanto sia ammissibile da regola non ha alcun senso all'interno del mondo di gioco vuol dire che quel giocatore non sta cercando di immergersi nel mondo di gioco ma sta semplicemente giocando a uno schirmish tattico sta facendo una partita di magic vede le regole come il fine ultimo e questo boh se a lui piace così problemi suoi ma potrebbe andare a danneggiare l'esperienza di gioco e l'immersione nella fiction degli altri quindi dichiarare questo tipo di chiamate sempre non valide è la cosa migliore perché scoraggia i giocatori a comportarsi in questo modo e di conseguenza migliora il gioco di tutti gli altri perché garantisce un maggior livello di immedesimazione. Un'interpretazione raw delle regole vuole semplicemente dire che il master non ha capito qual è il suo scopo all'interno del gioco e pensa di stare arbitrando una partita wearhammer o comunque stare arbitrando un gioco da tavolo e non un gioco di ruolo. Ovviamente bisogna sempre dare la priorità al raw. Le regole di un gioco sono scritte da dei professionisti e per quanto delle volte si possano verificare errori dietro quelle regole e c'è comunque molto più ragionamento, molta più competenza e molto più playtesting di quello che un singolo master potrebbe fare da solo soprattutto durante una sessione di gioco. Ad andare a voler cambiare le regole semplicemente perché la scena generata non piace si rischia di andare a introdurre problemi ancora più grossi più avanti nel gioco. Senza contare che normalmente questo viene a verificarsi in situazioni in cui un giocatore particolarmente astuto e che conosce particolarmente bene le regole è riuscito ad andare a al di là di quello che sarebbe previsto per trovare una soluzione particolarmente interessante a un problema e sentirsela negare semplicemente perché questo non appaga il gusto estetico del master quel giocatore si sentirà molto frustrato al di là del fatto che cosa piaccia o non piaccia i criteri estetici non sono soggetti a dibattito quindi un master potrebbe dire che quella cosa gli piace un altro dire quella cosa non ha senso e a questo punto dove verrebbe a stabilirsi questa linea di quello che è legittimo e quello che non è legittimo se non c'è una regola scritta condivisa tra tutti che dice chiaramente che cosa si può fare che cosa non si può fare questo è proprio un errore intrinseco e oggettivo le regole del gioco sono state concordate da tutti e vengono condivise da tutti e tutti ne sono soggetti master compreso decidere che arbitrariamente una cosa in quel momento non si può fare viola il contratto il gentleman agreement tra tutti i membri del tavolo per dei motivi che non hanno alcuna dimostrazione oggettiva interno del gioco tra i compiti del master c'è anche quello di garantire che tutti seguono le regole lui compreso e tra l'altro stiamo parlando dei giochi tradizionali è molto probabile che sia stato il master stesso a inserire quella determinata situazione nel gioco e se il master avesse fatto il suo lavoro si sarebbe accorto che il gioco ha problemi a gestire una determinata situazione e quindi quella situazione va evitata quando si usa quello specifico regolamento un'interpretazione rai delle regole vuole semplicemente dire che il master non ha capito il suo ruolo nel gioco e pensa di essere lo scrittore di un romanzo e pretende che i personaggi non si comportino come vogliono i loro giocatori ma come lui ha deciso all'interno della sua testa per motivi suoi e e per questo video possiamo dire che è tutto vi ho spiegato qual è il dibattito e credo anche di avervi spiegato perché questo dibattito inutile dandovi una motivazione assolutamente inopugnabile sul perché le cose devono andare in quel modo dopo tutto ne converrete con me in questo caso la risposta era praticamente ovvia come sempre adesso comunque la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se voi vi siete trovati in una situazione del genere vi chiederei come voi l'avrete affrontata ma non credo avete mai fatto una decisione diversa da quella che vi ho illustrato io oggi quindi lascia un po' il tempo che trova comunque nel caso avete fatto qualcosa di strano scrivetemelo e scrivetemi anche ovviamente eventuali domande dubbi perplessità come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta cresce il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco da gruppo i telegram dove si riunisce la community e che io uso anche come ispirazione per video come questi io sono il master kai e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao ciao